Il Nifo di Betulla è ottimo Il Nifo di Betulla è ricca di zucchero e nel mese tra marzo e inizio di aprile si trova in grande quantità nell'albero Saper accendere un fuoco in condizioni di sopravvivenza e di vitale importanza ci permette di cuocere i cibi, di cuocere l'acqua, riscaldarci e illuminare. Innanzitutto è sempre bene tenere un'esca a portare di mano e asciutta dal terreno umido. Innanzitutto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.